Boom di vaccinazioni antinfluenzali nel Sannio. Anche quest'anno Benevento si conferma provincia virtuosa per quanto concerne le somministrazioni dei vaccini contro l'influenza stagionale. Esaurite infatti le 60.000 dosi a disposizione dall'ASL Sannita, anche se sono ora disponibili altre migliaia di dosi. Veramente dico grazie alla popolazione che noi come provincia abbiamo dato un grosso input, grazie a tutta la mia struttura del Dipartimento di Prevenzione, grazie ai medici in generale che hanno lavorato veramente tanto per quanto riguarda la parte vaccinale. Vedete che quest'anno purtroppo abbiamo più casi perché le mascherine non vengono più utilizzate, non sono più obbligatorie. Io dico sempre di stare molto attenti perché anche la patologia influenzale può portare a polmonite, a ricoveri. Con il direttore generale dell'ASL di Benevento il punto sulla situazione durante l'inaugurazione del nuovo centro di riabilitazione di via Macellaro. Reparti completamente rinnovati grazie all'acquisizione di sofisticati e innovativi strumenti tecnologici che offriranno ai pazienti efficaci sistemi di trattamento e prestazioni all'avanguardia in una struttura pubblica. È un gioiellino, lo dico io, un gioiellino veramente fatto con tanto amore, con tanta passione dal nostro responsabile che è il dottore Iacobacci. Non solo i classici strumenti di fisioterapia e riabilitazione ma è presente in questo centro all'avanguardia anche tutta la parte robotica.